La Fiera delle Cipolle di Isernia torna al passato, torna nella parte alta di Isernia come avveniva fino a qualche anno fa, ma non cambia la sostanza, ogni anno arriva tantissima gente, chiaramente non solo da Isernia ma anche dai paesi e dalle province vicine. Forse rispetto al passato vengono per altri motivi, magari per fare un giro per le bancarelle, ma la tradizione delle cipolle resiste. Vediamo fino a che punto parlando con gli ortolani di Isernia. Non c'è Fiera delle Cipolle a Isernia senza la signora Maria Battista. Da quanti anni viene qui a vendere le cipolle? Sono tre, sessant'anni, di più. Lei è andata in pensione però continua a fare questo lavoro, perché? Mi piace, pure per... Non lo so, il cervello mi sento meglio, se lavoro mi sento meglio. Insomma, per lei cipolla è vita. Sembra che è una tradizione. Senta signora, ma cosa ha di particolare la cipolla di Isernia? È più dolce, è di un altro sapore, è una cosa proprio, è tradizione però è meglio, è la qualità che vuole. Lei quando cucina, soprattutto con quale piatto preferisce usare la cipolla? Secondo te, insomma, qual è la ricetta preferita con la cipolla? Mi piace la cipolla soltanto, però sta a chi la fa al forno, chi la fa a una zuppa, a me, a chi piace, come la fai, insomma è buona. Però deve essere questa cipolla bianca. Guardate. Se ne trovano ancora tante o siete rimasti in pochi? Siamo in pochi, ma anche a tanti a chi c'è, domani. Comunque, grazie a lei questa tradizione va avanti, ma secondo lei i giovani si appassioneranno, i suoi figli magari in famiglia la porteranno avanti? Sì, hanno qualche cosa, se no solo io non potrei fare. Quindi i figli stanno andando avanti? Sì, 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 ci sono due, chi fa una cosa e chi fa un'altra. Da solo non si può fare. La signora Carolina Avicolli, i sernina velace, non poteva non essere presente con agli e soprattutto le cipolle qui alla Fiera dei Santi Pietro. E Paolo, cominciamo dai prezzi, ma quest'anno che prezzi si ha? Sono come quelli dell'anno scorso, ci sta quello buono buono, ci sta quello medio, ci sta pure quello piccolino che sta a 5 euro la treccetta. Quindi uno come vuole mangiare, mangia. Più o meno un chilo di cipolle quanto costa, quelle migliori? Le migliori 2 euro. Quindi prezzi abbordabilissimi. Poi da noi ci sta sempre il buon peso, se vai al negozio un chilo, invece a noi è sempre un chilo e un quarto, un chilo e cento. La roba nostra è così. Questi anni il raccolto com'è andato? Male, infatti lo potete costare da voi, sono state le piogge che hanno rovinato il raccolto. Perché al momento in cui poteva crescere la roba, l'acqua l'ha distrutta. Cipolla? Anche la cipolla. Quest'anno è stata proprio, ogni anno che passa andiamo sempre peggio. L'agricoltura proprio se ne sta andando. Anzi colgo l'occasione di fare un appello a chi sta in alto, di aiutare un po' con l'agricoltura. Perché se finisce l'agricoltura finisce tutto il settore agroalimentare. Quindi è la base principale l'agricoltura. La filiera alimentare... Lei signora perché ha deciso di continuare? Perché decide di continuare a vendere le cipolle? La verità, io sono andata a scuola, ho finito le scuole. Poi per motivi di famiglia, ho avuto guai in famiglia, perdite giovani. Mi trovavo i raccolti messi, allora mi sono riboccata le mani, che ero figlia unica. E mi sono data all'agricoltura perché mi piace, sono le mie radici e ne sono orgogliosa. Le dispiace un po' vedere che ci sono sempre meno cipolle e sempre più bancarelle. Eh sì, gliel'ho detto perché le stagioni sono cambiate. Nel momento in cui tu hai bisogno che il prodotto cresce, o la grandine, o le piogge e ti rovina tutto il raccorto. Ma non è soltanto per l'aglio e la cipolla. Noi abbiamo piantato i pomodori, con la grandinata le ha decimate tutte. Mettiamo i fagioli, te li fa vedere belli, quando è il momento del raccorto te li brucia tutti quanti. Però purtroppo noi allo Stato dobbiamo andare a pagare, quindi uno si fa pure i conti. Il pensionato nella campagna ci porta i soldi, ci porta la pensione. Invece noi giovani purtroppo dobbiamo subire. Speriamo che cambi qualcosa. Signora Antonio Di Baggio, com'è andata quest'anno? E' andata, diciamo che è sacrificata perché ha piovuto sempre, specialmente l'aglio, è tutto sporco di terra. Non si riuscì a asciugare per poterla intricciare e cose. Però comunque siete riusciti a partecipare con un buon quantitativo. Un buon quantitativo sì. Quanto è importante per lei partecipare a questa fiera che è poi una grande tradizione di Serna? È stato un piacere a partecipare a questa fiera e pure come produzione. Lei da quanti anni si dedica a questo lavoro? Sono circa vent'anni che poi stavo in servizi, sono in pensione perciò mi dedica. Quindi da pensionato ha cominciato a fare questo lavoro? Questo lavoro sì. Un hobby? Un hobby esatto. Ed è riuscito a trasmetterlo, non so, ai suoi figli, ai suoi nipoti, questa passione? Non credo, è impossibile. Lei andrà avanti comunque? Fino a quando me la sento andrà avanti. Lei invece in cucina, dov'è che preferisce utilizzare la cipolla? Qual è il suo piatto preferito con la cipolla? Veramente nell'insalata è una cosa terribile. Pure con le cuoche, la frittata e cose, la utilizzo molto. Specialmente questo tipo di cipolla. Ciaia è molto polposa, invece quella di inverno è meno polposa e più fibrosa. Lucia De Simone, un'altra esernina presente naturalmente alla fiera delle cipolle. Ci sono sempre più bancarelle che vendono vestiti, giocattoli e quant'altro. Sempre meno bancarelle dedicate alle cipolle. Lei perché va avanti? Perché la voglia che ho di farla. Ma cosa ha di speciale la cipolla di esernina secondo lei? No, è buono, sono tutte le cose. La puoi mangiare cruda. Sto a chi la mangia con la pasta asciutta. Mio figlio come fosse quando mangia la pasta asciutta, lui piace quella cipolla rossa. Tropea. E c'è pazzo per quello. La buona cosa del mio marito invece è per questo è bianco. Quello piace assai, quello è bianco, la pasta asciutta. Ma questa rossa fa un po' concorrenza, è quella di Tropea, giusto? Quale preferisce, quella di Serna o quella di Tropea? Dica la verità. Che è la di Serna, la cipolla bianca, la cipolla di Santa Pietra. Come sono andati i raccolti quest'anno? Malo, malo, malo. Sono tutti mangiati dopo e quest'acqua si è tutto imbracciato, tutte cose. Signora, ma lei sente un po' di nostalgia dei tempi passati quando c'erano tantissimi venditori, quando tutti venivano solo esclusivamente per comprare le cipolle? Eh, ma allora a quest'ora già non andavamo niente più. Allora lo capivano, le piacevano e tutte cose, ma ora prima di tutto non capisco la qualità. Cioè, basta che cipolla, e basta. Ma lei in famiglia ha qualcuno che ha deciso di portare avanti questa tradizione? Eh, mio genere, ma... E tutto sommato piace ancora tanto a lei perché... A me po' di tutto, perché a me piace l'aria, sta fuori, sto in campagna e sto bene, stengo qua e sto bene. Che mi fa? Ora gli soggiorno. A prescindere fa bene alla salute la cipolla. Eh, eh, sì, sì, senza altro. Luigi Brasiello, sindaco di Isernia, torna alla Fiera della Cipolla. Isernia si prepara ad accogliere tantissima gente, come la tradizione, però c'è qualcosa che manca rispetto al passato. Probabilmente i veri protagonisti, i venditori di cipolle, sono rimasti 7-8 praticamente a venderlo. A suo avviso, come si può fare per rilanciare questa produzione, per rilanciare questo settore che ha dato tanto all'economia locale, almeno a livello di sussistenza? Ma diciamo che nel corso degli anni questa è una fiera che ha perso quello che era il filo conduttore che l'animava qualche anno fa. Nata come Fiera delle Cipolle è stata per anni e anni la fiera per eccellenza, nella quale si poteva appunto comprare questo prodotto che era tipico di questo territorio. E poi chiaramente un po' la globalizzazione, un po' il fatto che è cambiato il mercato, si è persa questa peculiarità. Quest'anno sono pochi, come sono pochi l'anno scorso e come lo erano due anni fa. Quest'anno abbiamo fatto per un piccolo spostamento. Intanto la fiera non sarà fatta nella centrale Corso Garibaldi, nella strada centrale Corso Garibaldi, ma sarà riportata dove veniva fatta qualche tempo fa, qualche anno fa, quindi corso risorgimento. Lì che cosa abbiamo fatto? Siccome è vicino all'auditorium, abbiamo fatto in modo che i pochi venditori di cipolle di Isernia si potessero mettere proprio davanti all'auditorio. Abbiamo voluto dare un segnale forte che da qualche anno sta dando per la verità anche l'Accademia Italiana della Cucina e la Camera di Commercio. Io per la verità sono stato colui che qualche anno fa ha preso a cuore questa situazione della produzione delle cipolle al punto che addirittura abbiamo selezionato il genoma delle cipolle. Lo abbiamo fatto poi seminare e abbiamo addirittura regalato le piantine di cipolle perché i produttori, ma anche i cittadini normali, la potessero coltivare. È poca cosa, poca cosa perché ovviamente oggi con i tempi che abbiamo diventa difficile fare questo. Ma come dire, è un inizio per cercare di capire che forse una parte del territorio della nostra città può essere identificato sicuramente attraverso la produzione della cipolla. Da sola non basta, bisogna metterci vicino qualche altra cosa e questo è lo sforzo che dobbiamo fare tutti quanti insieme. In effetti un punto di partenza ci sarebbe, ne ha parlato proprio lei, dei progetti avviati in passato dalla Camera di Commercio. Ricordiamo che per un periodo ci furono in circolazione degli oli alla cipolla, dei barattolini con le cipolle e quant'altro. Si era parlato anche di incentivi alle attività economiche. Si può ripercorrere questa strada in qualche modo? Allora, il problema serio è stato che proprio mentre cercavamo di fare tutto questo la crisi ha attanagliato ancora di più le nostre imprese e i nostri imprenditori. E quindi sebbene questo potesse essere un elemento che potesse dare spunto ad alcuni giovani anche di pensare di avviare un'attività commerciale molto particolare chiaramente siamo stati molto frenati da questo momento particolare. Momento che dura ancora, chiaramente che non è passato. Ecco, allora bisognerebbe cercare effettivamente, se possibile, di individuare dei fondi ad hoc e questo lo dovremo vedere sul nuovo PSR della Regione, per capire se c'è l'opportunità perlomeno di spingere alcune start-up di nuove imprese e quindi di giovani che si possano cimentare in un settore che è sicuramente un settore particolare ma che secondo me ha grandi prospettive. In questo senso credo che tutti quanti insieme, Camere di Commercio, Comuni ed Enti Preposti possano fare molto. E termina così la prima parte della puntata di Viaggio in Molise dedicata alla Fiera delle Cipolle di Serni, edizione 2014. Prima di salutarvi vi ricordiamo che questa puntata, oltre che su Tele Molise, canale 11, potete vederla sul canale 12, ossia Tele Molise 2 o ancora sul nostro canale tematico Molise Mio, il canale 212. Dall'Abruzzo potete seguirci sul canale 96, mentre dal Lazio e a Roma in particolare dove sappiamo ci sono tantissimi molisani, sul canale 749. Queste e le altre puntate, naturalmente potete rivederle sul nostro sito internet www.telemolise.com, il link ovviamente Viaggio in Molise.